Sono stati sequestrati due pescherecci coinvolti stanotte in una collisione avvenuta a largo del mare di Sciacca, certamente in corso per capire le cause dell'incidente. Danni ingenti, ma per fortuna illesi componenti dell'equipaggio. Completamente avvolto dalle fiamme, un autobus della compagnia AST, l'episodio sulla Palermo Sciacca. I passeggeri erano stati fatti scendere per Francesca Valenti, fatto grave. I tagli, dice, non mettano a rischio la vita delle persone. San Vito Lo Capo e Cefalu, modelli di turismo da cui trarre insegnamento è emerso durante gli stati generali del turismo e sull'imposta di soggiorno, tutti d'accordo sul fatto che gli introiti non vadano utilizzati per sistemare il bilancio. Dolce e Gabbana ormai pronti a prendere possesso del centro storico di Sciacca il 6 luglio per l'atteso evento Glamour. L'amministrazione ha convocato per giovedì commercianti e residenti per gli ultimi dettagli che li riguardano. Cabaret, musica, degustazioni, cultura, tradizioni e l'immancabile Luna Park, con due giorni di antinna a mare e la tradizionale processione di San Pietro. Questo è il programma della Sagra del Mare, oggi al Comune la presentazione. Iniziative nel fine settimana, ieri a Largo Spada, festa con l'anteprima di ritrovarsi in attesa dell'appuntamento tradizionale di fine agosto. Allo Stassone invece, sempre ieri, grande festa organizzata dal Borgo a disposizione dei bambini. Ben trovati ancora una volta al nostro telegiornale. Indagini in corso da parte della Guardia Costiera di Sciacca sull'incidente in mare avvenuto la notte scorsa tra un'imbarcazione della flotta Saccense e una della marineria di Porto Empedocle. Sono entrate in collisione e nonostante i danni, per fortuna, non ci sono state conseguenze per i marinai a bordo. C'è il servizio. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze l'incidente in mare avvenuto la notte scorsa a Largo di Sciacca. Per cause in corso di accertamento da parte del Circo Mare di Sciacca, che ha aperto un'inchiesta, sono entrate in collisione due imbarcazioni, la sciaula della flotta Saccense e la mamma pina della marineria di Porto Empedocle. L'incidente si è verificato intorno alle due della scorsa notte, per fortuna, solo paura e agitazione per entrambi gli equipaggi. Via radio è stata allertata la guardia costiera, che aveva anche predisposto l'intervento dei vigili del fuoco e del locale di staccamento, perché inizialmente era stato comunicato che il motopesca Empedocle imbarcava acqua. Quando entrambe le imbarcazioni sono arrivate nel porto Saccense intorno alle tre di notte, è stato evidente invece che il problema era scongiurato. Solo danni rilevanti ad entrambi i pescarecci che hanno interessato la prua di quello appartenente alla flotta Saccense, sul quale si trovavano cinque marinai, e la poppa del motopesca di Porto Empedocle, con a bordo quattro Empedoclini. Entrambe le imbarcazioni effettuano la pesca a strascico, ma dovranno rimanere ferme nel porto di Sciacca, nella banchina marinai d'Italia, fino a quando il Circomara, agli ordini del comandante Giuseppe Giannone, non concluderà le indagini, finalizzata ad accertare come sono andati i fatti. Soltanto a conclusione dell'inchiesta, i due pescherecci potranno essere portati nei cantieri per essere sistemati, e poi così riprendere la navigazione. I due pescherecci sono entrati in collisione al limite delle acque territoriali, a circa 12 miglia dalla costa Saccense. Attimi di terrore per i passeggeri di un autobus AST sulla Palermo Sciacca. Il pullman è stato completamente avvolto dalle fiamme. Nei pressi di Giacalone l'autista ha visto del fumo uscire dal vano motore, si è quindi accostato permettendo ai passeggeri di lasciare il veicolo prima che andasse a fuoco. Per fortuna nessuna conseguenza a persone sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e anche i carabinieri ad indagare riguardo alle cause dell'incendio. E sulla vicenda è intervenuta in una nota il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, chiedendo maggiore sicurezza per chi usufruisce, per motivi di lavoro, di studio e di turismo, di mezzi pubblici. È molto grave quanto è avvenuto, aggiunge il sindaco Valenti. Occorre che ci sia un'attenta verifica dell'efficienza e soprattutto sicurezza dei mezzi pubblici, alcuni dei quali visivamente non sembrano di recente fabbricazione. Non si può permettere e mettere a repentaglio la vita di chi usufruisce di un servizio così importante. Invece di tagliare i fondi ai trasporti pubblici, ha concluso Francesca Valenti, si dovrebbero al contrario aumentare, incentivando il rinnovo del parco macchine. È stata una a due giorni di confronti, molto intensa quella degli stati generali sul turismo, che lo scorso fine settimana Sino Caracappa è tornato ad organizzare dopo due anni. Ne scaturisce una superiore consapevolezza delle criticità, che impediscono ancora il decollo definitivo del turismo, anche se rimane ancora molto da fare e non solo per quanto riguarda il pubblico. Il servizio di Massimo D'Antonio. Una superiore formazione degli operatori per migliorare il livello dell'ospitalità turistica è stata ancora una volta questa la conclusione degli stati generali del turismo, l'iniziativa che Sino Caracappa, stavolta nella qualità di assessore, ha organizzato alla Badia Grande. Diversi confronti promossi per cercare di capire tutte le criticità di un territorio nel quale lo sviluppo non può che basarsi su una inevitabile commissione tra interventi pubblici e migliore mentalità dei privati. Questi due giorni non nascono solo per esaminare la nostra situazione, per evidenzare le criticità che abbiamo, per capire quali sono i grandi progetti e le grandi idee. No, l'intendimento è quello di avere spunti immediatamente attuabili. Rispetto agli stati generali di due anni fa, all'epoca organizzata dall'associazione Terra Matta, quantomeno è migliorata la consapevolezza di problemi che in massima parte rimangono sul tappeto. Sicuramente quello che è emesso nella prima edizione del Wake Up era la mancanza di formazione, di programmazione e di una visione ampia della città. Questi sono gli elementi più importanti che raccomunano poi tutte le aree tematiche che erano state analizzate durante la prima edizione del Wake Up, che erano cinque. Cultura, benessere, infrastrutture, comunicazione ed enogastronomia. Il brand di Sciacca è ancora un obiettivo che secondo te è fondamentale? Secondo me è fondamentale. Un'operazione un po' più ampia che guarda il benesse del turista ma prima di tutto del cittadino. Quello che è emesso due anni fa è appunto la mancanza di competenza. Una o due giorni fatta di dibattiti e confronti anche per capire le esperienze degli altri territori e farle diventare patrimonio di Sciacca. Tra queste esperienze c'è già la Via dei Tesori in programma a settembre. La Via dei Tesori è il più grande festival di promozione di beni culturali e beni patrimoniali che c'è in Italia. Da 13 anni in Sicilia è partito da Palermo come un'iniziativa dell'Università di Palermo e poi è cresciuto in autonomia. Da alcuni anni si è allargato a tutta la regione coinvolgendo centri importanti, altri capoluoghi oltre Palermo ricordo fra gli altri Catania, Messina, Siracusa, Trapani e quest'anno nel 2019 con l'edizione per noi numero 13 arriva anche a Sciacca e realizza in qualche modo quello che è il vecchio sogno di tutti gli amministratori una card unica che ti fa vedere e ti fa scoprire la città. Per quanto riguarda Sciacca vogliamo ricordare che sarà negli ultimi tre weekend di settembre Per quanto riguarda i tempi di programmazione per quello che spetta al Comune cosa dobbiamo aspettarci rispetto agli eventi estivi che sono un po' quelli di cui tutti parlano? Siamo entrate nelle Via dei Tesori quindi questo già per quanto riguarda il fine estate e l'autunno ci consente di avere restagionalizzato quel periodo adesso ci aspettiamo una collaborazione tra privato e pubblico per organizzare gli eventi in maniera tale da avere una buona visibilità ma da evitare che ci siano degli accavallamenti quando siamo proprio in alta stagione e in realtà vive Sciacca di suo l'assessore Caracappa sta provando a diversificare l'offerta mettendo un po' tutto ma anche in posti diversi dislocando immaginiamo un'estate che non avrà come suo scenario solamente il centro, la piazza, l'atrio speriamo ma che avrà anche altri luoghi come il Farco delle Terme come il Parco del Museo del Carnevale come la cavia di Contrada Ferraro cioè provare a realizzare qualcosa che dia un senso di inclusione a tutti quanti Tra le iniziative della Due Giorni degli Stati Generali del Turismo ieri mattina c'è stato un confronto riguardante l'imposta di soggiorno tema al centro dell'attenzione anche perché si attende ancora malgrado giugno sia quasi terminato che si stabiliscano le somme per le iniziative estive a confrontarsi sono stati tre consiglieri comunali Alessandro Curreri Presidente della Commissione Affari Generali Fabio Termine Presidente della Commissione Turismo e il capogruppo del PD Simone Di Paola ascoltiamo le loro riflessioni raccolte stamattina da Massimo D'Antoni l'imposta di soggiorno non può servire per sistemare il bilancio del comune ma deve essere usata per l'arredo urbano e per le altre necessità questa è l'opinione di Alessandro Curreri Presidente della Commissione Affari Generali che ieri mattina durante la seconda giornata degli Stati Generali del Turismo ha dibattuto del tema col Presidente della Commissione Turismo Fabio Termine e con il capogruppo del PD Simone Di Paola l'imposta di soggiorno si deve vedere primo punto accoglienza viabilità interna verso le strutture ricettive siamo un paese di mare l'autobus non arriva in spiaggia voi per problemi di tagli ai trasporti ci può stare ma abbiamo le risorse e possiamo farlo per problemi di tecnici perché ricordiamoci che molti accessi sono strade private e quando lo vogliamo fare Sciacca deve essere la culla dei tipi di turismo ad esempio elogastronomico il turismo di esperienza il turismo d'avventura poi c'è quello del matrimonio che è un po' un suo chiedo fisso e io posso promettere alla città che ci riuscirò l'imposta di soggiorno deve servire anche alla fruizione dei beni e con i matrimoni si possono creare dei fondi per sistemarli per la manutenzione ordinaria e straordinaria ad esempio pensiamo alla Chiesetta della Raccomandata pensiamo quando avremo la Chiesetta della Santa Margherita pensiamo alle spiagge non solo il Chiostro e il Collegio di Gesù è bellissimo però noi aumentando l'offerta turistica coinvolgendo gli imprenditori se vi fosse la possibilità di far uscire il registro comunale nell'uliveto di Roccoforte che attualmente non si può fare si potrebbero intercettare flussi diversi da quelli delle spiagge quindi dei matrimoni piccoli matrimoni di un certo tipo che per ora vanno in Puglia oppure in Toscana la promozione che abbiamo sempre chiesto perché comunque consideriamo che è stato sempre speso poco o zero è male 35.000 euro 30.000 euro investiti per i fuochi d'artificio non hanno senso se non diamo almeno 50.000 euro alla squadra Villa Giardini per sistemare il decoro urbano Fabio Termine che dal canto suo è tornato a battere sul problema dei ritardi nella gestione delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno e che ha spiegato se il tavolo tecnico non si riunisce entro questa settimana sarà inutile riunirlo dopo veramente non ha senso senza nessuna polemica però non ha senso convocarlo è stata inoltratissima anche perché ieri il consigliere di Cefalù ha detto che da loro il tavolo tecnico sull'imposta di soggiorno viene convocato ogni mese cosa che secondo me è giusta e tra l'altro proporrò questa modifica nel nostro regolamento perché convocandolo ogni mese si ha modo di verificare ogni mese quello che viene fatto e andare avanti con i passaggi successivi visto che l'amministrazione ha fatto propria questa manifestazione mi aspettavo che la caratterizzasse quindi mi aspettavo un indirizzo da parte dell'amministrazione dal punto di vista delle strategie turistiche invece ho notato che è stata una due giorni dove devo dire ci sono stati anche alcuni interventi interessanti però è sembrato un festival secondo me l'amministrazione non deve organizzare festival ma deve organizzare i servizi della città deve organizzare la città è stato tentato più e più volte il confronto e il dibattito adesso secondo me bisogna andare avanti più che altro per dare ad una stagione 2020 delle regole chiare e precise sono ben coscio del fatto che i comuni versano in condizioni non ottimali e spesso fa anche comodo utilizzare l'imposta del soggiorno per coprire i buchi di bilancio però l'esperienza ieri di Cefalù il consiglio di Cefalù ci dice che tra tante difficoltà perché anche loro le hanno avute alla fine adesso sono riusciti a regolamentarla questa imposta e stanno destinando tantissime somme al turismo e ne dico un'altra ho sentito anche l'assessore al turismo di San Vito Lo Capo che ha un introito di 700 mila euro annui e loro con questi 700 mila euro l'anno però fanno la stagione turistica non hanno il carnevale questo è vero da queste parti il carnevale è sempre stato un problema se noi vogliamo veramente definire una strategia turistica è arrivato il momento di mettere le mani sul carnevale non per abolirlo come dice qualcuno ma per riformarlo e dargli una vita propria questo sugli stati generali infine il commento dell'organizzatore Sino Caracappa assessore al turismo io penso che sia andata molto bene molto bene perché abbiamo avuto dei momenti che io ritengo fondamentali che sono stati i due confronti sulla tassa di soggiorno un'esperienza positiva portata dal Don Consigliere Comunale di Cefalù dove sono riusciti a fare miracoli con la tassa di soggiorno e quindi quella è una buona pratica sono delle iniziative virtuose che vanno assolutamente prese in considerazione così come abbiamo avuto l'assessore al turismo del comune di San Vitolo Capo piccolo borgo che si è trasformato veramente in un'industria bellica del turismo e quindi da prendere assolutamente in considerazione ma soprattutto io ho il momento che è stato maggiore interesse è il progetto che è stato presentato dall'architetto Chiarello sulla mobilità stati generali del turismo promossi questa volta dall'amministrazione comunale ma che per il consigliere Salvatore Monte hanno testimoniato il mancato raggiungimento degli obiettivi delineati nel corso della prima edizione dell'iniziativa siamo alle porte di luglio dice Monte la città non ha ancora ben focalizzato quali novità l'attuale amministrazione ha deciso di puntare per accrescere l'offerta turistica della città a mio parere aggiungi all'ex assessore al turismo non basta più filosofeggiare ma occorre che l'amministrazione comunale a due anni dal suo mandato segni definitivamente la politica turistica del territorio benvengano gli stati generali del turismo conclude Salvatore Monte ma prima di arredare un attico occorre avere la certezza di avere saldamente edificato ogni singolo piano del palazzo altrimenti il lavoro sarà stato vano e parliamo adesso dell'evento Dolce Gabbana fervono i preparativi in vista del 6 luglio giorno in cui il palazzo municipale di Sciacca sarà a disposizione dei due stilisti off limits una vasta porzione del centro storico della città i cui residenti e commercianti sono stati oggi invitati a partecipare ad una riunione in programma giovedì mattina sentiamo il 6 luglio prossimo come ormai noto si svolgerà a Sciacca l'evento Dolce Gabbana riflettori accessi non solo da parte dei tanti curiosi ma soprattutto da parte delle forze dell'ordine per quello che sarà un evento più che blindato saranno attuate infatti tutte le misure di sicurezza previste per i grandi eventi a disposizione dei due stilisti il palazzo municipale di Sciacca con il primo piano e l'atrio superiore che saranno interessati all'evento di moda e l'atrio inferiore per il parti successivo non solo l'ex commento dei gesuiti gli ospiti di Dolce Gabbana avranno la possibilità di ammirare la chiesa madre e la porzione del centro storico che sarà off limits la zona rossa per il 6 luglio interesserà il corso Vittorio Emanuele Vicolo Duomo Vicolo Gino Vicolo Tommasi Via Roma Via Vincenzo Venezia Vicolo San Maritano Discesa Campidoglio Piazza Scandaliato Piazza Mariano Rossi Vicolo Vetrano Vicolo Ficani Via Garibaldi Piazza Farina Piazza Bevilacqua Piazza Purgatorio e Piazza Don Minzoni Residenti e commercianti di quest'area sono stati invitati oggi all'amministrazione comunale ad un incontro che si svolgerà giovedì prossimo alle 9 nella Sala Blasco del Palazzo Municipale Saranno illustrate le decisioni assunte per lo svolgimento della manifestazione e i provvedimenti che riguarderanno questa porzione del centro storico della città Informazione che i residenti e commercianti attendono con particolare interesse da giorni per capire se, come e quando potranno entrare o uscire da loro abitazioni o a quali regole dovranno attenersi pare che saranno rilasciati dei pass c'è chi parla addirittura di braccialetti per i residenti chi ipotizza addirittura il divieto di transitare nella zona del centro storico riservata a Dolce Gabbana e loro ospiti posto che l'evento all'interno del Palazzo Municipale sarà blindato e riservato ai VIP per ciò che attiene alle norme di sicurezza andremo sicuramente oltre quelle predisposte in occasione della cena in piazza Scandaliato degli ospiti del Google Camp nel 2016 alla quale peraltro esacensi residenti in quel tratto di Corso Vittorio Emanuele avevano avuto accesso e veniamo alla Sagra del Mare cabaret musica degustazione cultura e tradizioni con due giorni dedicati all'antinnamare e la tradizionale processione di San Pietro ci sarà tutto questo nella quattro giorni della Sagra del Mare che apre giovedì prossimo con l'esibizione del trio comico e respinti un cartellone stilato dalle tre cooperative di pescatori con il comitato di quartiere e il comune di Sciacca anche quest'anno oltre agli spettacoli spazio alla Cittadella del Gusto e a Luna Park stamattina la conferenza stampa di presentazione dell'evento saranno i respinti e le mele marcia ad aprire giovedì alle 21 la quattro giorni di spettacoli e intrattenimento messa su anche quest'anno dalle tre cooperative di pescatori San Paolo Consulting Maria del Soccorso e Fra Pescatori per la Sagra del Mare Festa di San Pietro oltre agli spettacoli ci sarà spazio alla tradizione con due giornate dedicate all'antina a mare trasmesse dalla nostra emittente del dettaglio degli eventi abbiamo parlato con degli organizzatori sono eventi distribuiti su quattro giorni si inizia già da giovedì 27 con spettacoli sul palco ci sono tra l'altro il respinti che è un gruppo di cabaret importante che sta andando sulle reti anche nazionali insieme a un gruppo locale le mele marce venerdì poi ci sono Matranga in Minafo con anche uno spettacolo musicale sabato il cabarettista Pandolfo e domenica Einar che è un cantante di fama nazionale è stato presente a Sanremo e quindi quattro giorni di spettacoli sul palco ma io voglio ricordare anche i giochi d'artificio che si faranno sabato sera questo in ossequio ai nostri armatori che poi la domenica notte vanno in pesca l'antinna venerdì e sabato dalle ore 17 vi invito a presenziare in zona portuale perché è una manifestazione bellissima ma poi sono tanti gli eventi collaterali e vi invito a guardarli o sulle pagine facebook quindi sui social ma anche sul sito sagradelmare.it Vito Colletti cooperativa fra pescatori al lavoro per questa sagra del mare cosa comporta per voi e per gli armatori di questa città? Per noi comporta un impegno non indifferente anche organizzativo visto che non facciamo questo lavoro ma facciamo ben altro e quindi riunione già iniziando da gennaio per organizzare e chiamare vedere un po' per organizzarci per gli armatori comporta anche un impegno abbastanza pesante anche economico perché ricordiamoci che alla fine sono gli armatori che economicamente danno un buon contributo per la sagra del mare e quindi se non c'è l'impegno economico è difficile poter organizzare una festa anche come quest'anno con una sede di eventi di artisti o di altre situazioni quindi per gli armatori è veramente un grazie particolare per gli armatori è una festa che coinvolge il quartiere ma riesce a coinvolgere ancora tutta sciacca viene preparata dai giorni di preghiera con un triduo che avrà inizio mercoledì con la Santa Messa alle ore 19 dove ci sarà la benedizione in modo particolare degli armatori coloro che in modo diretto gestiscono la festa poi il giovedì ci sarà momento di adorazione e la disponibilità per le confessioni venerdì invece ci saranno i Vespi Solenni dei Santi Pietro e Paolo sabato per il giorno della festa e alle ore 19 avrà inizio la processione che si sennoda per via caricatore lasceremo la chiesa della Madonnuzza Sanne l'immagine la statue simulacro di San Paolo con la benedizione poi scendendo per la discesa San Paolo ci sarà l'imbarco di San Pietro usciremo fuori del porto ci sarà la benedizione del mare e con dei fiori ricorderemo anche le vittime del mare e a rientro poi ci sarà la Santa Messa nella chiesa di San Pietro tutta la comunità invitata a partecipare la Sacra del Mare è la prima festa popolare che deve coinvolgere la città come amministrazione abbiamo delineato un percorso che speriamo dovrà vedere l'amministrazione come parte più attiva quest'anno abbiamo riconosciuto che la festa ha fatto un salto di qualità per noi è importante perché è un momento in cui la religiosità l'intrattenimento la cultura e la tradizione si fondano perfettamente per cui intanto devo fare i complimenti a chi ha lavorato per questo programma ma ancor più riteniamo che si possa essere un momento fondamentale proprio di inizio di apertura della stazione turistica delle città anche negli anni a venire Anteprima a ritrovarsi ieri a Largo Spada nel cuore della zona di San Leonardo una vera e propria festa con tanto di banchetti in cui gli organizzatori si sono confrontati con i residenti per accogliere idee e suggerimenti riguardo la prossima edizione della manifestazione che mira a valorizzare l'antico quartiere ebraico della città l'appuntamento per ritrovarsi 2019 per il 23, 24 e 25 agosto prossimi sentiamo una vera e propria festa di quartiere quella organizzata ieri dal gruppo per ritrovarsi a Largo Spada zona San Leonardo un momento di incontro tra consolidata squadra associativa agli artisti che hanno preso parte alle passate seste edizioni e i cittadini di Sciacca primi su tutti i residenti delle vie del quartiere ed era presente anche l'assessore alla promozione strategica del territorio Sino Caracappa in particolare ecco gli abitanti del quartiere che è stato avviato un confronto costruttivo volto ad evidenziare le criticità della zona e i punti su cui migliorare la passata edizione della manifestazione che si è svolta proprio a San Leonardo dopo cinque anni di ritrovarsi al quartiere dei marinai è stato scelto di attenzionare il groviglio di Vicoli sede della prima comunità ebraica cittadina la cosiddetta Kadda divenuto poi il quartiere a luci rosse della città una zona quindi mai ben vista da Saccensi in un certo qual modo ghettizzata una sorta di periferia nel cuore del centro storico di Sciacca se questo da un lato è stato motivo di abbandono dall'altro ha permesso di mantenere intatte le caratteristiche della zona con vicoli stretti che tendono a generare smarrimento in chi li percorre tutto ciò ha invogliato la squadra di ritrovarsi a scegliere il quartiere San Leonardo come zona da risemantizzare e valorizzare attraverso il contributo di vari artisti una ventina quelli che lo scorso anno hanno creato un museo sotto le stelle talvolta regalando delle opere di street art permanenti dando nuova veste e nuova luce al luogo poi trasformato in un percorso turistico è stata infatti scelta l'arte come strumento per accendere i riflettori su un territorio poco conosciuto spesso dagli stessi cittadini portando bellezza in posti dimenticati ma c'è da lavorarci ancora e per questo con perseveranza che è il tema della manifestazione 2019 il cui bando è già online si intende raccogliere l'adesione di nuovi artisti così da vestire nuovi angoli spogli del posto se ne è parlato ieri durante l'anteprima a ritrovarsi in un banchetto conviviale tra associazione e saccensi per raccogliere idee e spunti per la manifestazione che si svolgerà l'ultimo fine settimana di agosto dal 23 al 25 a panciapiena si ragiona meglio e tra un pezzo di pane consato e l'altro si è parlato delle scorse edizioni presentando il catalogo con quanto realizzato lo scorso anno del percorso artistico strutturato in zona per i turisti e delle finalità della manifestazione finanziata grazie alle somme ricavate dalla democrazia partecipata del comune di Sciac la località dello stassone ieri pomeriggio è invasa da tante famiglie per la manifestazione rivolta ai bambini organizzata dal locale comitato di quartiere vediamo com'è andata Tanti bambini e di conseguenza tante famiglie ieri pomeriggio allo stazzone hanno partecipato dall'ultima iniziativa del comitato di quartiere preseduto da Angelo Pumiglia la festa per i bambini è stata un successo sia in termini di partecipazione sia per le tante iniziative messe in campo dai giochi alla lettura di storia ai disegni all'animazione è stato un pomeriggio di divertimento con un'attenzione particolare anche all'alimentazione non solo per i dolci preparati dalle volontarie alcuni dei quali anche senza glutine e comunque con l'intento di conciliare guste e calorie ma anche per il messaggio sull'importanza di una corretta e sana alimentazione veicolato attraverso le storie che sono state loro raccontate una bella iniziativa insomma che ha consentito ai bambini della città non solo a quelli residenti allo stazzone di godere di un pomeriggio all'ora interamente dedicato in una città che purtroppo da questo punto di vista non offre molte occasioni per non parlare degli spazi eppure proprio l'iniziativa del comitato di quartiere dello stazzone ha dimostrato come sia solo una questione di volontà del resto i bambini al contrario degli adulti sanno accontentarsi e apprezzare la manifestazione loro dedicata è solo una delle tante iniziative che il nuovo direttivo del comitato dello stazzone ha promosso e che si svolgeranno durante la stagione estiva un valido esempio di cittadinanza attiva che era diventato una bellissima mappella fine della storia parte ufficialmente oggi 24 giugno il campus denominato Ippo Campus organizzato dalla delegazione regionale da quella provinciale di Agrigento di Marevivo per una settimana 21 bambini provenienti da Catania saranno coinvolti in una serie di attività tutto tondo con natura e mare presso l'oasi Marevivo Marevivo vuole suggellare un anno di impegno portato avanti a vari livelli contro l'uso della plastica monouso organizzando un campus all'insegna del vivere plastic free infatti nel corso del soggiorno la plastica sarà bandita da tutte le attività del campus e a tale scopo tutti i partecipanti si sono dotate di borracce e stoviglie personali e saranno utilizzati solo materiali compostabili a fare da cornice a queste attività ci sarà il paesaggio di Eraclea Minoa e Bova Marina che malgrado i problemi di Erosona della Costa insorti lo scorso inverno è tornato alla bellezza di sempre il campus si concluderà sabato 29 giugno con un laboratorio sulla tutela del mare delle specie a rischio di estinzione con l'opportunità per tutti i bambini di osservare direttamente un esemplare di tartaruga marina della specie caretta caretta riabilitata presso il centro di soccorso dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e che sarà liberata presso la spiaggia antistante l'Oasi adesso vediamo quale libro ci consiglia da leggere la Mondadori di Sciacca Teresa è l'immagine della ventenne di successo corpo perfetto amiche giuste sogni in grande la vita in realtà non è stata così clemente con lei e ciò che Teresa appare oggi è frutto di un duro lavoro su se stessa e di un passato da seppellire ai suoi occhi quindi la ragazza che la accoglie nel luogo dove nascono le lanterne più esclusive di Milano indispensabili per la sua festa di compleanno non può che suscitare orrore Rachele è sciatta e ferma gli anni 80 e vive defilata nella bottega del nonno Antonio quando però i genitori contrari al suo desiderio di fuga oltreoceano le tagliano i fondi Teresa accetta il lavoro offerto le proprio da Antonio Rachele non l'avrebbe mai voluta al suo fianco ma ora che il nonno è in ospedale un paio di mani in più le sono utili per sanare i debiti del negozio tra le due c'è differenza ma anche un'inaspettata complicità Rachele intuisce che Teresa le sta nascondendo qualcosa e la sprona venire alla luce raccontandole la storia che si cela dietro il rituale delle lanterne dissipare il buio delle ombre tuttavia potrebbe non bastare è necessario lasciarsi guidare dagli amici quelli veri se vogliamo ritrovare la strada di casa ci rivediamo a casa di Valentina Sagni Bene Edito Rizzoli il torneo open di tennis intitolato alla memoria di Pierpaolo Ruffo e organizzato dall'associazione Passione Tennis si è concluso ieri con la vittoria di uno straniero Gregorio Cordonier atleta sudamericano di 23 anni che dallo scorso anno partecipa ai campionati del tennis club sciacca e al recente vittorioso campionato a squadre di D2 si è imposto in finale nettamente sulla grigentino Alfonso Palmisano una bella manifestazione quella organizzata dal circolo tennistico Saccense con i genitori di Pierpaolo che hanno presentato presenziato scusate alla manifestazione di premiazione insieme al presidente del sodalizio Davide M e gli altri dirigenti arti marziali trasferta in Calabria per la Ippon Caratelentini dove l'atleta Andrea Danna ha conquistato una meritata medaglia di bronzo nel servizio spazio anche al podismo con le prossime gare di sciacca e menfi valevoli per il Gran Prix di corsa su strada Fidal per la provincia di Agrigento c'è il servizio Ancora impegni agonistici nazionali per la Ippon Caratelentini ieri infatti a Cetraro Marina in Calabria si è svolto il torneo CTR centro tecnico regionale del sud Italia composto da Campania Puglia Calabria Sicilia Basilicata e Molise più gli appartenenti alla nazionale italiana giovanile per la categoria under 18 di specialità cumité il sudalizio di Piero e Marco Lentini è stato rappresentato da Andrea Danna già a medaglia di bronzo ai recenti campionati italiani cadetti che si sono svolti allo stialido Danna ha gareggiato tra le fila della rappresentativa siciliana conquistando un ottimo terzo posto superato soltanto dall'atleta della rappresentativa della nazionale e da quello della rappresentativa della campania soddisfatto il tecnico Marco Lentini che ha accompagnato Andrea Danna a Cetraro e passiamo al podismo tutto pronto a Sciacca e a Menfi per le prossime gare podistiche ufficiali targate Fidal domenica prossima 30 giugno appuntamento con Run Sciacca sotto le stelle quarta prova del Grand Prix di corsa su strada della provincia di Grigento in gara ci saranno ovviamente le tre squadre locali della Tartaruga Marathon Club e Agatocle il ritrovo e la partenza sarà in Piazza Duomo e le premiazioni subito dopo la corsa il percorso sarà ricavato nel centro storico sarà di circa 8 chilometri con 5 giri da poco più di un chilometro e mezzo a seguire poi la domenica successiva 7 luglio appuntamento invece a Menfi con la ventesima edizione delle strade del vino ottavo trofeo Daniele Puccio gara che rappresenta il quinto appuntamento del Grand Prix di corsa su strada della provincia di Grigento la manifestazione è coordinata dalla polisportiva Menfi 95 e si terrà anche in questo caso a partire dalle ore 19 con lo sport si chiude qui il nostro telegiornale come sempre grazie per essere stati con noi a